Beh, è naturale che con questi fatti è maturato in me proprio la volontà di entrare nella Resistenza. E poi inoltre sono stato anche un po' bugiardo con i miei colleghi della Resistenza, cioè con gli antifascisti, che ho detto, guarda che io non posso più dormire, questo era vero, non posso più dormire a casa, voglio andare in montagna. Ho insistito parecchio, finché poi, è andato il giorno, eravamo già il primo di marzo, quando si sapeva che in montagna c'era una formazione partigiana, io voglio andare in montagna. E io e il mio amico, ecco, eravamo poi i responsabili, Ugo Veronesi, Visser, e abbiamo, poi abbiamo anche altri nostri compagni, in sette ci siamo partiti, perché praticamente il responsabile era il fascismo, è stato il fascismo, che si è legato con i tedeschi, che hanno voluto la guerra a tutti i costi, la guerra di Spagna, la guerra d'Etiopia, l'ha occupato l'Albania e poi l'ultima guerra, insomma, sono stati loro. Noi ce l'avamo più con i fascisti che con i tedeschi, anche se con i tedeschi hanno commesso delle barbarie. Ma non meno dei fascisti, perché era stanca della guerra, adesso basta, chiudiamo, insomma, con questa guerra. Ecco, perché poi anche io ho detto, basta, io ho fatto un esame di coscienza, che io sembrava che magari fosse responsabile, infatti era anche responsabile, perché il mio lavoro che facevo, facevo le armi, mi sentiva un po' anche responsabile di quello che è stato, un complice anche di queste cose, perciò anche con gli amici cercavamo di andare in montagna e per combattere i fascisti tedeschi, con una carica che voi altri non potete neanche immaginare, poche parole.